buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio con arms scusate se non lo avevo più portato ma anche col fatto di cross bandico non l'avevo più portato in generale titoli sulla nintendo switch e oggi proveremo online max brass però ho fatto un incredibile errore no voglio cambiare personaggio y tengo premuto così mi cambia colore yes c'è già tutto occupato quindi ci tocca aspettare siamo 4 contro 4 anti 6 contro 6 chi è che spara spara 2 contro 2 3 contro 3 perché c'è che cacchio vuol dire non lo so mi son perso delle cose in queste giornate ok i verdi contro il blu allora ci prendiamo granata barbecue è il martello che mi ispira mi ispira tantissimo il martello qua come si fa a giocare aiuto così si salta così si fa lo scatto la paura aio che botte incredibili no ti sarebbe piaciuto affanculo perché se non mi sbaglio l'avevamo incontrato max brass nella finale del torneo però era lento se non mi sbaglio e vabbè ci siamo inchiappettati in una maniera incredibile qua era lento come la fame ad avercelo contro quindi non so quanto possa essere propedeutico ahia che botta che coprezzo propedeutico prende questo personaggio tenendo premuto tenendo conto scusate tenendo conto il fatto che è da un po' che non ci gioco a questo gioco te no 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 vaffanchiappola che male no venga qua signorina ma perché mi ha preso quello dietro i pugni che le do signorina no allontaniamoci evitiamo di fare brutte figure che muoia il nostro amico piuttosto per primo e che balle gang bang chiusa all'angolo e c'è il colpo vittorioso rift inferto da king boo botta in faccia vediamo se facciamo una foto mi sa tanto che non sono riuscito a fare la foto ed è uno spoiler incredibile mio dio siamo contro edulog livello 4 ma no non è edulog livello 5 proviamo granata e barbecue che barbecue dovrebbe avere la madosta calmo però signorino stia un pochino calmo non c'è bisogno di fare tutta questa incredibile cattiveria totale ammazza gli altri sono contento è buona no non ci sono problemi quanti pugni che poi che cazzo vuol dire livello 4 becca sto pugno perché io sono max brass sono parente di max power il mio 9 non devi dire perché lo devi soltanto cantare non è vero che diceva così ma max power merita tantissimo via il nome più fico e incredibilmente potente allo stesso tempo che sia mai stato creato dalla vita eterna chi non vorrebbe chiamarsi max power o max brass vabbè in sto caso siamo siamo max brass botte incredibili contro l'edulog livello 4 abbiamo battuto edulog livello 5 se non mi sbaglio ma questa volta è livello 4 le botte no ah tanto dolore no mi ha liberato qualche ad uno bravo figlio che botta che ho preso che ci ha stunnato quasi tipo tutta la vita grande vittoria io ritorno su arms online e ci sono le grandi vittorie e che cazzo boh demolito questo livello 4 almeno livello 4 diciamo poi magari se abbiamo fatto un bel lavoro vittoria e mi sono preso 3 monetine dato che le devo fare qua gente che si pesta di botte dai un altro 2 contro 2 ci sta qua eh no fammi andare la vado io con quello la perchè io contro rezzo a basket a basket a basket e non pallavolo a basket mi scelga qualcuno perchè quello la c'ha scritto Leon e Luca non l'ho mica capita adesso stanno a far cambio non lo so ma perchè nessuno vuole giocare con mi contro Nat ce l'hai aperto moderato sempre qua nella cosa di meccanica della signorina la fabbrica della famiglia lì insomma allora ma non mi sono sembrate malacce queste granate e barbecue quindi c'è e che botta che botta incredibile perchè mi resta in avanti lei che ci ha tirato un pugno di una stortità incredibile soprattutto perchè a me partono i colpi dritti a io e lei partono i colpi no a me partono i colpi storti che cacchio sto dicendo quante botte mi sto sto rimediando da questo no fuga eh ti sarebbe piaciuto quante botte sto rimediando e vabbè mi fa fare qualcosa mortacci tua vabbè vinci te sei la persona più forte dell'universo cosa ci posso fare to ai ma ha sfondato ha fatto perfect ha fatto per ha fatto to e vabbè qua però l'avevo presa io tu in te col bel sedere ci ha sfondato le chiappe e che male ovviamente ci andiamo a fare un'altra partita conclusiva di questo episodio perché non è possibile che questa si beva il tè così tranquillamente come bonus per vittoria di fila ho perso questa ma va bene lo stesso perché io sono anche diciamo famoso per eh che numero che ha palla è anti c'è il 69 ma questi sono attaccati da 80 anni a giocare online 4 contro 4 yeah battlefield mode yes che go bas ma lo volevo fare io basket contro gg pallavolo no pallavolo no pallavolo no che mi sta sul cacchio la odio pallavolo fatemi fare basket che sono il campione mondiabile della vita no allora qua ci prendiamo tutti e due granata voilà in controtendenza me fa schifo pallavolo non so bono vabbè che ora ci posso fare non so bono non so bono scusate ragazzi ma questo episodio che va a terminare con due vittorie e due incredibili sconfitte mega potenti e vi rimando alla prossima partita questo è stato uno scempio perché pallavolo mi fa schifo deve essere bandito dalla vita e ci vediamo alla prossima con una nuova incredibile serie di partita online ad arms un altro punticino